Ciao a tutti ragazze, come state? Benvenuti in un nuovo video, rieccomi tornata dopo un pochettino di tempo, in realtà mi scuso per l'assenza, ma come sapete sui social sono un pelino più attiva su Instagram, quindi vi invito magari a seguirmi lì e su TikTok. Vi ho già spiegato che ho intrapreso il percorso per il master, il campus, cioè la preparazione è un po' lunga come questione, quindi mi scuso in partenza per l'assenza qui su YouTube, ma mi richiede un pochettino più di tempo e quindi non riesco a stare dietro anche a questo social momentaneamente. Però ho alcuni video arretrati da pubblicarvi, quindi datemi un attimino di tempo di organizzazione e vi prometto che vi pubblicano piano piano i contenuti. Allora, oggi sono qui intanto per mostrarvi una cosa mensile, diciamo che vi faccio vedere più o meno ormai sempre, che è la collezione di La Femme. La Femme sapete che esce sempre con le collezioni nuove in base ai periodi autunnali, invernali, natalizi, ovviamente come non poteva far uscire nulla per Natale. Infatti, ha sfornato una bellissima collezione. Allora, io vi pubblico, mi sono premurata a pubblicarvi questo video subito, perché è una collezione intanto natalizia in limited edition, quindi non sarà disponibile per sempre, quindi sarà disponibile per un periodo. Inoltre, vi spiego ora man mano che andiamo avanti col video, se acquisterete appunto dal sito fino ad esaurimento scorte, La Femme ha pensato bene di regalare, di dare un omaggino, questo bellissimo specchietto con appunto il logo La Femme a portachiave. Quindi è carinissimo, secondo me è una chicca da avere per noi donnine. Perdonate intanto le mie mani tutte diverse, cioè questa, ma può anche andare bene che la mia mano destra in realtà va bene, e la mano sinistra stavolta è pietosa, quindi si sono invertiti un po' i ruoli. Allora, quindi, appunto, per ogni ordine, fino ad esaurimento scorte, uno specchietto in omaggio, troppo carino. Io ora vi mostro la collezione, allora la collezione è questa qui, si chiama appunto Shiny Secret. Appunto, Christmas Limited Edition 2022, anche là, al solito, i loghi di La Femme per le collezioni nuove sono carinissime. E come avrete capito qui, sono per la maggior parte glitter, appunto, dato dal nome Shiny Secret. Sono quasi tutti i colori glitterati, tutti a tema natalizio, quindi sono i colori proprio principali natalizi. Io li ho già stesi su tip, ma ora ve li faccio vedere aperti. Allora, sono messi in ordine, quindi in base proprio a come sono messi anche qui. Eccoli qua, guardate che bellezza, sono, niente ragazze, sono meravigliose. Cioè, colorazioni bellissime che sicuramente farete a Natale. Sono le classiche colorazioni proprio che vi richiederanno tutte, quindi sono colori che utilizzerete sicuramente. e ve li faccio vedere aperti. Allora, questo... Allora, un attimino che me li... me lo apro... anche se... allora... ok. Allora, iniziamo con lo 007, che è un bellissimo blu glitterato. Eccolo qui, guardate che bello. Wow. Io, quando ho aperto questa collezione, sono rimasta, diciamo, ecco, con gli occhi a cuoricino, perché sono tutti glitter, tutti bellissimi. Comunque che farò sicuramente. Guardate che bello questo dorato, proprio il classico dorato natalizio. Guardate che bello. Lui, tra l'altro, questo proprio, questo colore, questo d'oro, ecco, questo dorato, non lo avevo proprio in questa colorazione, quindi mi è fatto anche piacere riceverlo. Questo verde che è pazzesco, cioè, non so se rende dalla telecamera, ma questo verde è bellissimo. E già le mie clienti lo stanno adorando. Poi, lo Z010, che è un rosso fantastico. Io, non lo so, se non volete prendere magari la collezione intera e volete prendere qualche colore sparso, tra tutta la collezione vi consiglio assolutamente di prendere questo rosso, perché è il classico rosso natalizio. E ve lo giuro, ragazze, qui su tip una, una sola stesura. Non ho fatto due stesure. Io vi dico sempre, su, magari ecco, mi fate spesso domande su TikTok, su Instagram, i colori coprenti che io consiglio sempre. Ecco, io, per me, la femmina è una garanzia. Io vi consiglio di investire un po' di più in un colore buono, che non vi crea assolutamente problemi e soprattutto non vi va a rovinare la struttura che c'è sotto, perché è un colore pigmentatissimo che ha bisogno solamente di una stesura. Quindi, se voi realizzate, ovviamente, una struttura slim, i colori di la femmina state sicuri che non ve la rovineranno mai. Quindi, ecco, tutto questo per dirvi che questo rosso ve lo giuro che mi ha rapita. Mi ha rapita. Poi, un altro che vi consiglio assolutamente è lo Z011, che è appunto un bel rosso glitterato più scuro, però. Quindi, diciamo, più un bordeaux. Pieno, pieno, pieno di glitter olografici. Anche lui, fantastico. E ultimo, ma non per importanza, lo Z012, che è un colore che non avevo assolutamente. Ed è un nero glitter. è dorato e blu. Quindi, guardate qua che particolare. Pazzesco. Lui ha anche periodo di Halloween. Secondo me, si farà tanto. Comunque, questa ragazza è la collezione. Io volevo anche dirvi che, sulla femmina, dal 14 fino a fine settimana, appunto, da lunedì alla domenica, ci sarà anche la Color Week. In cosa consiste la Color Week? Praticamente è, diciamo, una settimana di sconti folli, dal 40%, quindi fino al 40%, sconti fino al 40%, tutto il sito, appunto, presenta questi sconti. Io vi invito ad andare a dare un'occhiata. In ogni caso, sapete che potete utilizzare anche il mio codice sconto, che è MARTI12, tutto scritto grande, ve lo scrivo qui. e vi metto anche la logondina del Color Days qui. Appunto, il mio codice sconto è valido su tutto, tranne su Scimax e sulla nuova collezione, quindi non è valido sui prodotti scontati, se lo sapete, ormai ve lo ripeto da tanto, anche perché il mio codice la femmina è attivo da un bel po'. E niente, ragazzi, io mi auguro che questa collezione vi sia piaciuta. Fatemi sapere se l'acquistate, magari taggatemi nelle stories, se appunto acquistate qualche colorino di questo, oppure la collezione in sé che io vi consiglio, perché rapporto qualità-prezzo, vi consiglio sempre di prendere le collezioni intere. Niente, io vi auguro un buon lavoro a tutte, una buona giornata e ci vediamo presto. Ciao!